Il ricordo di Moreno Salvadori, governatore e pilastro per molti anni dell'Arciconfraternita di Misericordia di Barga, guidata dal 1999 al 2010. Esattamente nel giorno del primo anniversario della sua morte, avvenuta il 30 aprile del 2023, l'Arciconfraternita ha deciso di porre presso la chiesa di San Felice, sede di questo sodalizio, una lapide in suo ricordo. La scopertura dopo la celebrazione di una santa messa, la presenza delle autorità cittadine, di tanti amici e soprattutto dei familiari accanto ai componenti della Misericordia. Come ha sottolineato il governatore Enrico Cosimini nell'occasione, elencare tutto quello che ha fatto per il sodalizio a Moreno è quasi impossibile. Gli interventi portati a compimento durante il suo incarico di governatore sono stati tanti, tra cui il restauro del complesso di San Felice, ma anche la grande spinta all'iniziativa del volontariato ospedaliero. Da ricordare soprattutto al suo grande impegno nel comitato pro restauro del complesso, del convento e della chiesa di San Francesco a Barga. A scoprire la lapide alla presenza di tutti i figli è stata, non senza emozione, la moglie Leda, tra gli applausi e l'emozione di tutti i presenti, tra cui anche gli amici e coloro che negli anni hanno condiviso esperienze politiche di volontariato e di lavoro con Moreno, che è stato anche dipendente del comune di Barga.